Sì, attualmente ha 45,92% di mi rate. No, è il nostro momento allora di confermare queste statistiche. È un po' bella questa musica di Udyr. Veramente ottimo. Vediamo l'area costa 23,85 cosa picca. Leone è bellissima. Silas è già bello anche solo contro Fitz. Sì, contro Silos. Fizzo contro Fitz. Serafin è bello. Cioè, Silas è bello contro Serafin. Prendere Zreal. Brutto Draven contro Oxyn. In questo momento è forte Zreal. Sarebbe stato forte Zeri. Xayah. Tristana, Samira, Sivir. Probabilmente anche Twitch e Niela. Luzian pure. E Kaisa. Jinx non tanto, però vabbè. Giochiamo con quello che abbiamo. Se è Yasuo top contro Kamil. Kamil counter Yasuo. Se fosse contro Fitz pure probabilmente. Quindi contro Fitz forse è skill matchup. Sì. 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 and in sweet boy, little girl and sweet girl no con certeza ah thank you Forse vado a sbloccare la Io so, ora ho guardato adesso Potrebbe addirittura essere qui a guardare Troxin è brutta invadere quindi io credo che è brutto sicuro No, perchè ha fatto quella? Perchè ho attaccato i mini Ok, c'è questo in qui Ho sbagliato a fare lo sweeper, lo devo fare anche qua Non vedono se lo sta facendo Anche se c'è una ward in questo basso Un momento Devo vingare che c'era che si è un bot Ma... Non è il flash E non è una mazzolta Devo cancella una volta Andiamo a fare pure queste Ci sono in mente di nuovo Io vengo però... No, non devi trovare Un'altra parte di nuovo Sono io quello che ho fatto Oh, non è qualcosa E poi prendermi quel fatto Un po' simpatica. Potrebbe essere mancata la bot, adesso. Si, non potremmo fare un solo drake, si era finito, potrebbe stare agranda, ma ho finito un minuto, per l'ennesima volta Sairos si può uccidere, ma si può aggancare. Si è fatto anche uccidere. Non spawnerà qui. Non c'è bisogno di ingaggiare. Mi da abbastanza pushata, bot pure, perché non è venuto qui il drake? Non c'è bisogno di tightre. Si mette ancora 4-5, andrò questa adesso, un po' non ho preso, la prossima è un mountain, quindi sarà una landa dell'extech oppure dell'oceano. C'è un'altra per la mid, un bot non si può grincare, push a drop. Checks in qui. Checks in qui. C'è un bot per ogni porto. Che bruttazione. Non dovevo scendere perché avevo visto che un game si aveva poche vita e stavano praticamente bivando, quindi non potevo sicuramente fare qualcosa. 900, torniamo. Neanche sarà meglio 1.100. Quindi il bot si può sfidare. Ecco, potrebbe portarsene a un mountain o non se ne porterà neanche, come lo peccato. Andiamo verso l'aeron, il prossimo obiettivo. Questa che non so l'unità è. Carina teleg正na還是 part least che all' altre non so, sai che nei primi ci hanno bisogno di risco di far è fin'. Ed o poi la scuola. Pedammare per sfidiare! Uccas破 è stata l'unità. Vediamo ilstando parto di頃. Nonerne non s'ocheri. Qui trasporta a un'occa. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Non lo posso smontare, non c'avevo le ore della carica Spillano la mid-dra, ora vanno a campo lì, per l'affare Lascia la dovevo lasciare Non zappiamo niente su pirore Non lo posso scappare Ok, levo a pechare Spillano il giro Spillano il giro Spillano il giro possiamo beccare camillo sta soffrendo a me fa paura fanno paura i cc quindi questi giorni ho capito che ha un bel poca di nasi per questo è un mercolio non è stato grande niente sarebbe stato meglio armor, dubbi è un mazzino più dubbi possiamo fare questo un steel guard o qualcosa possiamo fare questo c'è così che ne abbiamo approccio ora possiamo aprire in tempo bella relazione dei ragazzi dodge al millimetro una infestata che la possiamo fare cadere non lo tengo però guarda dove vanno loro guarda dove vanno loro potrebbe esserci xin qui che si si mi rompe lì bello l'ingaggio 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 non lo prendo per pochissimo l'ingaggio che si mi 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 Forse riesce a caricare anche l'altra, forse no Vai via, grazie Guardate che era pure l'altra Penso è stato stupido Vai ad ingaggiare me Senza sapere che Avevo ancora Il kick Quindi lo potevo mandare Vai, andiamo in formazione su X-Zero Drago in, che mi devo 18, becchiamo adesso C'è Fizz Queen Potrebbe interrompermi per gli altri Ma ci sono loro comunque Ampro queste due cose per questo E andiamo verso il drago Prossimo drago Perdiamo questa, sì Loro passano in vantaggio di Torri No, questa persona posta Veramente bravo, perfetto Non so se l'abbiamo perso Ma non so neanche se non l'abbiamo perso Non può rischiare di farlo al momento Ancora mancano comunque 15 secondi Spawnerà in tempo senza Metto una ward qua 7 secondi al drago Potrei dire che Potrei venire a cammino Per potrei che mi aiutasse Qua c'è Perché ha 11.000 di vita Questa squadra Questa è un momento Credo che non è arrivato Non bisogno Nel loro Nel loro C'è un momento Stavo per perdere il drago Con uno smite bruttissimo Non ci hanno provato Non ci hanno provato Facciamo questo qui Andiamo In base Non so se riesce a scappare Non c'è la flash E arriva di là Per peccato Non avrò comunque preso una torre Un paio di kill Non hai kill sicuro Non abbiamo visione al Baron Lui da 0-4 a 4-4 Comunque è buono Per la zona adesso Quindi È abbastanza forte Non so se riesce a scappare 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 Un piccolo momento di disservizio. Un piccolo momento di una shot dalla stagina c'è una versione troppo poco ok è la fina out of position chiaramente spero non muoia da misforcing ah sta fincando delle raccose quel dentro ok 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 perchè non sto regalando perchè non sto regalando pizzo non a vero emergenci non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cerchiamo di stare vicino al baron adesso. Anzi andiamo a fare lo scatto. Grazie a tutti. Non lo voglio fare così. No, 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 non lo voglio fare. No, non lo voglio fare. No, non lo voglio fare. No, non lo voglio fare così. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.